Si riparte dunque ed è tutto pronto per la nuova stagione. Sabato in programma l'anticipo tra Francavilla e Musciano. Il Teramo, il grande favorito del campionato di eccellenza, scenderà in campo domenica 6 settembre nella gara interna contro l'Alba Adriatica, squadra rivelazione della passata stagione. Ma ci sono altri club dal passato glorioso, come Castelli Sangro, Angizia Luco e Francavilla. I biancorossi sono favoriti per la lotta al vertice. La società ha operato molto bene sul mercato e ha messo nelle mani del tecnico una rosa competitiva, composta da giocatori di spessore tecnico e di elevata esperienza, come Chiavaroli e Celli in difesa, Buonocore e Bolzan a centrocampo, e la coppia d'attacco, il vero punto di forza, con Tauà un gradito ritorno, l'argentino Fiorotto già in grande evidenza, senza dimenticare Orta. Un campionato difficile, più equilibrato senz'altro, dello scorso anno, in cui ci saranno 4 soste e 5 turni infrasettimanali. Debuto interno, dunque, domenica contro l'Alba, che merita grande rispetto, una squadra che è cambiata poco e che ha puntato sulle conferme del tecnico Edmondo De Amicis e di giocatori, tra cui l'ex Di Giorgio. Izzotti dovrebbe schierare la formazione base con un 4-4-2, con le uniche varianti Celli per di furia e Vitale come terzino sinistro, che si è ristabilito dall'infortunio al posto di Trincone. Le gare avranno inizio tutte alle ore 15, dunque la missione di Izzotti è solo vincere. Questo si aspettano i tifosi, la città e la società, che ha dato al suo trainer una squadra competitiva per raggiungere un obiettivo che forse sta ancora stretto ad una città come Teramo, che ha conosciuto il calcio ad alti livelli, ma che ora può contare su una società solida, giovane, che ha grandi ambizioni e progetti importanti per il futuro, grazie al suo presidente Campitelli, il vero artefice della rinascita del calcio teramano. Allora, c'è grande attesa per questo debutto di Izzotti sulla panchina del Teramo per l'avvio del campionato. Allora, quali sono le raccomandazioni che ha fatto la squadra in vista di questo primo impegno di campionato contro l'Alba Adriatica? Penso che innanzitutto, secondo il punto di vista, è la seconda partita, perché noi abbiamo già fatto un ottimo esordio con il San Nicolò, che è una partita molto particolare e difficile, e non ho fatto altro che raccomandare quello che ho detto con il San Nicolò, cioè noi non dobbiamo assolutamente guardare l'avversario dall'alto verso il basso. Per noi è importante che in campo la squadra sia sempre attenta e concentrata, perché con il valore tecnico e individuale che ho, sicuramente se non commetteremo questo errore, penso che il Teramo potrà dire ampiamente la sua. Quanto è importante partire con il piede giusto contro un avversario, tra l'altro l'Alba Adriatica, che ha cambiato poco rispetto allo scorso anno, hanno confermato il tecnico, il mondo dei amici, se anche diversi giocatori? Sulla l'Alba Adriatica ho delle informazioni positive, tra l'altro lo scorso anno ho avuto modo anche di vederla qui contro il San Nicolò, mi ha fatto un'ottima impressione, è una squadra ben messa in campo, ordinata, difficile da superare, molto ostica, anche se molto corretta, devo dire. Però devo anche mettere in evidenza che adesso, al di là del valore dell'avversario, noi dobbiamo ancora una volta pensare a noi, fare noi la partita. È vero che partire bene significa tanto, ma è vero pure che in caso contrario il campionato è lunghissimo. La formazione hai tutti a disposizione, anche Vitale, l'ultimo arrivato pare abbia recuperato da quelle giro infortunio. Sì, la formazione è quella già che è data agli organi stampa, dovrebbe essere in Porta Castorani, Coduti, la indifensiva da destra, Coduti, Chiavaroli, Celli e Vitale, Colancecco, Bonocore, Lenart e Bolzan, Tauà e Fiorotto di punta. Insomma, per concludere, allora, diciamo questo, sicuramente l'eccellenza è un campionato che ha delle difficoltà maggiori rispetto alla promozione. Il Teramo però ha dei valori tecnici notevoli. Allora, ci si chiede, questo Teramo potrà ripetere il campionato scorso anno con quel margine di vantaggio? A noi basterebbe vincere anche di un punto. Ho già detto ironicamente, ma lo penso davvero, a me interessa vincere. Quindi se ciò dovesse venire all'ultimo minuto, l'ultima partita di campionato, comunque sarei soddisfatta. Bocca a lupo. Crepi. Marcos Bolzan, uno dei due argentini in squadra nel Teramo di questo anno. Allora, tu conosci bene la realtà dell'eccellenza, perché lo scorso anno sei stato all'Aquila, quindi ci puoi parlare tu di questo campionato. Meglio di te chi può illustrarlo. Sì, sì, lo conosco, sì, l'anno scorso è un campionato duro. Sembra facile di fuori, perché forse il Teramo o qualche squadra è forte, ma alla fine sono tutte le squadre un po' dure. È un campionato duro, ma se stiamo con l'atteggiamento giusto penso che siamo i grandi favoriti a vincere. Domenica si parte, quindi affrontate come primo impegno l'Alba Adriatica, squadra che è affrontata già lo scorso anno. Sicuramente è un avversario che merita rispetto, anche perché ha cambiato poco rispetto alla passata stagione. Sì, sì, l'ho affrontato pure in Coppa Italia, nella seconda fase. È un avversario duro che sa quello che vuole dentro il campo e pure noi sappiamo quello che vogliamo e vogliamo vincere, quello è l'importante. Anche l'Aquila era una bella squadra, forte, con un organico notevole. Le differenze, la differenza tra l'Aquila e questo Teramo? È un po', come si dice, un po'... È un po' difficile, perché ancora è presto per dirlo, però penso che questa squadra sia all'estesa altezza dell'Aquila o di più ancora, però bisogna dimostrarlo ancora dentro il campo. Tu sei forte, tra l'altro sei uno dei punti di forza di questa squadra, sicuramente una spina per le difese avversarie sulla fascia sinistra. Le tue condizioni fisiche sono buone? Sì, sì, sono buone, sì. Per fortuna tutto a posto, fisicamente sto bene, penso che sia un bel anno questo.